Ciao a tutti dal salutatore, grandissima sorpresa, mi trovo con il fantastico fantasista internazionale Messire David Ciao ragazzi a tutti, io ovviamente è obbligo a salutare tutti gli amici del nuovo canale Fit Theater che abbiamo aperto poco fa su Youtube Fit Theater su Twitter, saluto gli amici anche del canale Twitter, poi abbiamo anche, perché ce ne sono tanti, della pagina Facebook insomma tutti quelli che ci amano e continuano a seguirci e che ci vengono a trovare a teatro come vi trovalo? www.messiredavid.eu oppure messire david and friends sulla pagina del teatro Fit Theater Fit Theater su tutto, insomma seguiteci salutiamo tutto quanto il web direttamente dal Teatro Lione, il salutatore è Messire David hola chica, hola